a la mano la mano in isolation parte 11 12 forse 11 comunque siamo venuti qua ultima volta quando eravamo riusciti a ripristinare la corrente dell'ascensore e che cazzo ho fatto sono tornato su io ho sbagliato vabbè sono ammazzato poco dopo e adesso dobbiamo ritornare giù perchè sono un coglione ecco torna giù grazie ci dovrebbero adesso comparire teoricamente un sacco di stronzi armati e si io so che ho completato l'obiettivo per me ci accompagnerà per tutta la partita tutto il gioco ho già capito fino alla fine del gioco mi sembra giusto l'obiettivo è completato quanto eri entrato qua dentro e li avevi proprio camperati ero stato un pro però la tipa era riuscita a farmi fuori ecco ecco mai alto sale top via sale aspetta beh perchè voglio le sue munizioni ok questo cos'è oh bel occio dov'è eh è qua in giro bel hai sentito che ho detto questo cos'è si 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 oh oh eccolo cosa sale che cazzo che cazzo ok skyrim style che cazzo che cazzo ok ok reghi beh non abbiamo più munizioni non so se lo sai dai un po' di munizioni sei che me ne dai anche tu sei che me ne dai qui non vedo niente perfetto dire di passare di qua l'obiettivo dov'è non si sa quale l'obiettivo tra l'altro eh trovo l'uscita ok trovo l'uscita semplicemente per quello forse non c'è l'obiettivo perchè non trovarcela noi quello iniettore vabbè ehi sale sale aspetta c'era dopo vabbè prima si salva poi si fa tutto il resto solitamente prima si salva cosa più importante quello che cosa è una cosa inutile vai alla stazione della navetta scimmette se noi siamo lì noi dobbiamo andare qua quindi dobbiamo scendere e poi fare tutto tutto così ah ma a posto si si facile facile sintetizzatore dai ok giusto dove se ecco di qua allora questo qui e poi questo qua e poi questo qui e poi questo qui e poi questo qui no a posto no a posto easy easy salve allora di qua no non c'è niente da questa parte prendi questo maggiorno la mappa e si va di qua però ma sono tornati teoricamente perfetto poi nostri due compagni coltiva ferita si erano chiare non dovevate atterrare che l'ho già detto non abbiamo ricevuto il tuo messaggio avevamo capito che avresti ehi ehi identificati cosa rip ah giusto perché questi qua non c'erano prima rilassati riccardo rilassati riccardo rilassati riccardo rilassati riccardo questa qua ormai è morto il sanguato rilassati dove è finita la sicurezza che figa sta grafica madonna pesa un sacco ah tu sei la sicurezza cos'è non lo so è un omaggio portato qui da marlo il capitano della nesidora un omaggio c'è un posto sicuro a questa stazione quelle creature se ne vanno in giro i sintetici quelle creature ma è uno o più di uno ma perché pensa che ce ne siano più di uno non lo so secondo me è uno solo non è più di uno secondo me è uno solo vabbè comunque c'è un'unità di supporto vitale al quartier generale andiamo allora perfetto ah andiamo allora andiamo allora mi ricordo un pochino cosa fa? si scalda? si scalda ok eh si strano visto che hai rovinato la tua ma l'affanculo allora shotgun che cazzo best ha era un verde ero la scatola nera mi ricordo un pochino eh com'è che si chiamava la serie tv quella che mi hai consigliato The Strain l'hai guardata? si bello vero lo sto per dire io però non puoi conoscerlo ancora invece lo ho visto quanto l'hai visto per adesso? eh? L'hai visto tutta? Tutta! Cosa? L'hai vista tutta? Quanti sono gli episodi? 13 Non sono tanti Sei un idolo Ma quanto è bella A me mi sono piaciuto No ma è bello 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 Ve lo consiglio tra l'altro ragazzi Perché Che cosa è successo? T2 A T2 più A A e D Oh Wow Va bene Va bene Ve lo consiglio tra parentesi Ve lo consigliamo tra parentesi The Strain Perché è davvero una serie Che a me è piaciuta tantissimo Interessante Interessante In particolare I primi episodi I primi episodi Sono stati per me bellissimi Il finale A me A mio parere Mi aspettavo qualcosa di più sul finale Però Per il resto grande serie Ovviamente horror Quindi Bello 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 Insomma Quindi No è carino È davvero carino Più che altro Si vede tantissimo la regia di Guillermo del Toro Guillermo del Toro Labirinto del Fauno La madre C'è ragazzi Opere sue Tanta roba Hellboy 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 Che non mi uscirà mai il tre Volei piangere Ho c'ho Ho c'ho però adesso Ho c'ho il boy Ho c'ho il boy Qui là Qui non è il boy Chi è? Belle sopra Belle sopra Ok 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 Non lo aspetta È ricolloscibile L'android è zed Oh man Ma dove è l'idiota? Belle Oh Aralo Cosa? Sii È un pro Belle Però c'è il flash Il scambio il flash Oh no Oh no Aspetta No Ci può fare un attacco furtivo Ah La minchia Ah Attacco furtivo la minchia Senti tu Vedi le munizioni Stronzo Magari te le frego a te Sale Ok Prendi tutto 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 Allora Eh non c'è posto per tutti e due qua dentro Ok Non c'è Ciao Belle Sei sicuro? Non dovevo disattivare anche l'altro? Ah Eh sì No ma guarda Mi dispiace Non vole Ok Era Come sarà necessario? Stronzo Non in faccia Eh sì Proprio in faccia Sì Yes Proprio in faccia Finito Sei finito You are terminated Ok Andiamo E adesso possiamo usarlo Perfetto Prende sempre gli stessi tasti Sì ma infatti ma Questi qua vanno sempre tutto a simboli Però ce l'ha fatta Questi non hanno mai le lettere Questi hanno solo i simboli Stiamo arrivando Cioè sto arrivando Cosa? Li aspettiamo Di cosa parli? Granata che cosa? Salata flash Wow Bello Comunque Eh Che cosa c'è qui? Flash grenade Torcia a gas necessaria C'è un bel salvataggio Torcia a gas sale Top Bellissimo C'è anche un salvataggio C'è anche un salvataggio? Sì di là Ehm Dill Dill Ooooooooh Sai che stanno Stanno sparando come Quanto mi spartano di salvataggio? Cioè fino a due mesi fa Non ne troviamo uno Neanche morire Adesso Sempre Ogni angolo Non c'era un salvataggio C'è un salvataggio Va bene Va bene così Andiamo allora Usa la torcia a gas Spaccalo Bello Oddio Strafigo Sì Ah sta tagliando te? Sì Con questa andatura Con questa andatura Sei un po' spiegato Ti sembra un taglio bello Guarda lì Guarda lì Guarda lì Guarda lì che roma Guarda che È bellissimo Guarda che casino che sto facendo È bellissimo Perché non scrivi Che mi sbordo È bellissimo No in realtà è preimpostata la natura Ah No che spai uno scherzo Sono cazzo No no è preimpostata Magari ti dai una mossa però Perché facciamo che puoi essere divorati vivi Ok Tipo spada laser Vai Via Aiaia Ehi Ok È davvero Illuminato qui dentro Sì Confortevole Si dice confortevole Trombel Allora Di qua I bassoni Ehi Anni 80 Cos'è? A caso Abbiamo fatto un po' una Un giro Una deviazione Abbiamo sentito delle voci Sta attenta Cos' Sì 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 Ma che stronzi siete Andati Ok la navetta Che è quale quella lì Quale navetta Si è questa E questo Perfetto Chiama la navetta E adesso arriva qualcuno Perché nascondere Finché non arriva nessuno Che cos'è cosa vuol dire Finché non arriva nessuno C'è un salvataggio Questa Che non arriva nessuno Un salvataggio Un salvataggio Un salvataggio Un salvataggio Troia 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 È arrivata Sì Questa Questa E' tutto Figlio di puttano Androchia Time Androchia Time Androchia Androchia Cazzo No ha detto Androchia Androchia per me vado a fare il palestrato basta ma nazione ma quanti sono ok ok ma c'è che non torni indietro andiamo a cercare se non vedi non vedi ci sono no hai fatto la sale best cosa fa dai no no ce n'era un altro no 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 stronzi ok vai a premere questo pulsante anzi provo a salvare dov'è 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 là in fondo dalle scale dai dai lo sapevo cazzo lo sapevo lo sapevo dovevamo farlo prima sale 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 via subito lo sapevo u ok 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 la navetta starà arrivando devo capire l'estica se ne vanno o magari no secondo me se ne vanno secondo me se ne vanno no non è possibile che li fa affrontare ma che se non è possibile o li uccidiamo tipo abbiamo qualcosa per ucciderli in maniera silenziosa si aspetta dove c'ho il tonfa elettrico oppure c'ho tonfa elettrico giusto ma c'ho anche la chiave inglese comunque c'ho anche la chiave inglese posso fare una granata flash yeah sale perfetto ah l'hanno trovato all'alieno loro si sicuro allora abbiamo anche bomba flash volendo però devo capire se quelli li vanno via però teoricamente secondo me vanno via proviamo a vedere ho salvato tanto dai siamo qua al limite tutto vuoto una minchia tutto vuoto sembra tutto vuoto sale 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 vai dentro c'è vedi bel devi osare se non osi se non si osa non si avanti ok diremmo di concludere qua questo episodio di alien siamo arrivati adesso l'abbiamo fatto salvi non l'abbiamo neanche trovato il mostro oggi non l'abbiamo neanche comprato ma è una volta all'inizio no in realtà ma si ma ne ha non c'è cagato quindi non c'è cagato ne ha ma davvero ho avuto a che fare con umani android questo non salva però vero i caricamenti questi qua salvano o non salvano no ma di sorta c'è subito un assabotaggio spero 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 molto ok allora ciao ciao ciao